Continua il momento nero per le formazioni alessandrine impegnate nel campionato di calcio di Serie D. Nella ventunesima giornata andata in scena lo scorso weekend il bilancio è di quattro sconfitte su quattro incontri con un totale di un gol segnato e 14 subiti, numeri che parlano da soli. Il tonfo più pesante è arrivato per la novese giunta alla decima sconfitta consecutiva. Il Chieri, quarta forza del campionato, ha travolto i biancocelesti per 5-0 e adesso anche la posizione di mister Aiello è seriamente a rischio. La nuova dirigenza novese starebbe infatti pensando ad un altro cambio alla guida tecnica della squadra. Una soluzione che a Castellazzo è già realtà dopo le dimissioni rassegnate da parte dell'allenatore Lovisolo a seguito della sconfitta dei biancoverdi per 2-0 contro il Vado, diretta concorrente per la salvezza. La decisione è stata presa a seguito di un incontro tra il tecnico e il presidente Curino, con quest'ultimo che ha apprezzato la scelta di Lovisolo di farsi da parte per provare a dare una scossa a tutto l'ambiente, cercando così divertire la ruota di una stagione che vede attualmente Castellazzo in ultima posizione. Domenica negativa anche per l'Aqui che cede 3-0 in casa contro la Caronnese, rimanendo al terz'ultimo posto in classifica. In acque più tranquille navega il Dertona, reduce però dal secondo 4-1 consecutivo, questa volta subito dallo Sporting Bellinzago, seconda forza del campionato. Un punteggio severo maturato anche a causa delle numerose assenze tre leoncelli, che rimangono comunque in una tranquilla posizione di metaclassifica. Punto Fuoco di Tortona metti a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stuffe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circomballazione, angolo via Pernigotti. L'Associazione Ligure Astrofili Polaris, in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, come ogni anno organizza un ciclo di quattro conferenze multimediali interattive. Gli incontri si terranno con ingresso gratuito presso il Museo di Storia Naturale, la prima conferenza «Perché di notte il cielo è buio?» passa a una panoramica sul percorso della scienza astronomica e sull'origine della cosmologia moderna. Sabato 16 gennaio 2016, ore 15.30, il mistero del cielo oscuro. Relatore Marco Bruno.